Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, volevo dire io al cuore, poi naturalmente lo assicuro a Guos, a Dino Trescuo di Meri, intanto le faccio sapere l'onorevole Andrea Orlando che la sta accendendo, la Napoli collegando con noi, quindi magari penseremo anche se c'è un consiglio di cambiare una partita tra voi. Ma io le voglio dire, il tuo Dino, il coordinatore del PD, ha detto che in settimana renderanno noto il candidato insieme? Non c'è nessuno, se qualcuno le stene di più, magari proprio di te. Allora, non so se vuoi salutare Fattino da Napoli. Sì, io vorrei abbracciare, perché salutarlo è facile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.